Bentornati su MyFootballGersey. Quella che vedete è la prima maglia del Real Madrid in versione di casa, ovviamente, in versione player. La versione fan l'abbiamo già vista e trovate qui in alto la recensione. La versione fan l'abbiamo. La maglia del Real Madrid è una maglia che bisogna avere. La squadra più famosa e personata al mondo è immancabile. Qui in alto vedete il costo. Per questa maglia è veramente un affare da non perdere. Vi ricordo che sotto in descrizione trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia. Andate a vedere quale splendide offerte vi attendono. Prima di lasciarvi, ricordatevi di iscrivervi al canale. A voi è un gesto che non costa nulla, ma ci permette di offrirvi sempre nuove recensioni. Per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima. Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia large della versione player. Dovano epered a mettere una maglia. Ciao. Grazie a tutti.